Pendagli da forca! Non scordatevi di seguire quei cani fetidi di Flavio e Danilo anche sulle pagine social, dove troverete altre curiosità su Bucanieri Celebri, Navi Pirata ed Eventi Storici. Seguite Radio Pirata Podcast su Facebook e Instagram e navigate su libertalia.fm. E ora, buon ascolto! Caro Flavio, sono ancora emozionato io dalla puntata della settimana scorsa, perché, a parte tutti i bellissimi discorsi che abbiamo fatto col professor Capoferro, ma questa idea che gli ammutinamenti dei pirati in un certo senso anticipino il concetto di sciopero dei lavoratori, a me mi ha gasato, cioè questo dimostra che andando a scavare, andando a fare delle riletture... Dici che già ci stanno tacciando di essere politicamente schierati quando noi parliamo di roba del Settecento, vabbè. Però più rileggi la storia dei pirati, più veramente trovi lì tutte le basi, tutti i semi di concetti politici, filosofici, non citiamo... Che è veramente... la contemporaneità serve quello di cui stiamo parlando. Però vedi, però vedi, non solo anarchici e socialisti, ma c'è anche democrazia, c'è anche liberalismo... C'è democrazia, esatto. Esatto. Ci sono proprio i semi di tutto, no? Di tutto quello che è venuto dopo. E tutto questo noi lo troviamo soltanto analizzando la Golden Age caraibica. Ora, qual è il punto? Io e Flavio avremmo una gran voglia di parlarvi anche di pirati di altre epoche storiche. Vogliamo parlarvi dei pirati barbareschi, vogliamo parlarvi delle guerre degli antichi romani contro la pirateria nel Mediterraneo, dei pirati giapponesi. E ci siamo sempre detti, io e Flavio, finiamo prima i pirati caraibici, tanto è un'epoca veramente, una parentesi veramente ridotta della storia, e poi parliamo di tutto il resto. Non stiamo riuscendo a finire i pirati caraibici. I pirati dei caraibici sono un'enormità di individui, di pendagli da forca, mille storie, mille battaglie. Però, cosa abbiamo fatto furbescamente io e Flavio? Abbiamo detto, facciamo ogni tanto delle puntate dove mettiamo un po' di biografie di pirati meno famosi e almeno ce li togliamo di mezzo. Diciamo, sarebbe come direbbe qualche famoso reality di cuochi, una puntata mappazzone. Questa è un po' la puntata mappazzone. Ma in realtà, per dare un'idea di intellettualità anche alla puntata di oggi, diciamo che, dopo avervi parlato di capitani, dopo avervi parlato anche di famosi quartiermastri, noi vogliamo dare lustro anche a tutti gli altri membri di ciurme famose della storia che comunque hanno fatto il loro. Almeno non sembra una puntata che sia una cozzaglia di nomi messa lì un po' così. E quindi, chissà che non vengano poi fuori due puntate dalla chiacchierata che stiamo per fare con Flavio, lo scopriremo, ma vogliamo parlarvi oggi dei soci dei più importanti pendagli da forca della storia, degli amici, dei compari, dei complici, perché si sa, caro Flavio, che chi è che trova un tesoro? Chi prima ha trovato un amico, ovviamente. E sappiamo bene quanto i pirati fossero affezionati ai tesori. Esatto, un po' meno agli amici, come vedremo da queste storie, anche un po' di ammazzamenti e tradimenti, ma lo vedremo dopo la sigla. Eccoci qua nella puntata mappazzone, caro Flavio. Da cosa partire? Io non so neanche da cosa partire. Oggi non so proprio... Non mi piace questa cosa del po' passione, perché in realtà oggi hai proposto proprio un bell'argomento. Perché la pirateria, e noi lo sappiamo bene, visto che ci abbiamo pure scritto un libro sopra, ma qui lascio perdere ogni marchetta, basta guardare nella descrizione del video, del podcast, insomma. Ecco, la pirateria non era un mestiere solitario, anzi, la storia ci ha insegnato molte, molte vicende di alleanze di breve e lunga durata tra pirati. Se pensi già al grande sacco della Ganges Hawaii, di Henry Avery e di tutti i suoi consociati, tutti insieme a pirateggiarlo. Poi c'erano dei rapporti veramente sullo stile mentore-apprendista, e a volte proprio vere e proprie amicizie durature. Come non citare la grande amicizia tra Bellamy e Paul S. Grace Williams, amico sodale fin dalle prime avventure del nostro Black Sam. Però, insomma, abbiamo parlato di questi due fin troppo, quindi oggi evito proprio di spenderci altre parole. E invece, guarda, ti porto in un viaggio che parte dai Caraibi, arriva all'oceano indiano e poi ritorna. Insomma, seguiamo insieme la rotta della famigerata Pirate Round. Esatto. Questa scia che segue non solo, anzi, segue non i protagonisti principali, come hai giustamente introdotto, ma i loro grandi amici, alleati, mentori, talvolta nemici o traditori. Ecco, insomma, tutti quei personaggi che sono in realtà importanti per le varie dinamiche del mondo della Golden Age dei Pirati, però molto spesso vengono oscurati proprio dai grandi nomi che abbiamo già trattato in varie occasioni. Ecco. Giusto. Che ne pensi di questo viaggio? È un'ottima prospettiva. Ripercorrere la Pirate Round, però non la Pirate Round dell'inizio, però quella della fine, un po' della storia della Golden Age. Ok, la prima tappa del nostro viaggio inizia proprio nel mar dei Caraibi, nei prestiti dell'isola di San Christopher, dove incontriamo il pirata William Moody, ma soprattutto, visto che è il tema della puntata, il suo più importante alleato, nonché mentore, Richard Fraud. Non è ben chiaro se questo Fraud avesse proprio lui convertito Moody alla pirateria o semplicemente ci lavorava insieme, però sappiamo che probabilmente a un certo punto l'ha recuperato da un naufragio, o da un abbandonamento di qualche tipo. Insomma, quello che è importante è che Fraud rappresenta per Moody un personaggio fondamentale per la sua carriera. Loro lavorarono insieme proprio sulla stessa nave, la Rising Sun, e Fraud era una specie di armatore proprio del vascello. quindi, nonostante il rapporto tra i due, nel rapporto tra i due, Fraud era il mentore, però al contempo lavorava per Moody, che era il capitano. Insomma, è un rapporto un po' particolare, però Fraud ricopriva un ruolo molto importante all'interno della compagnia e lui stesso comunque diventa capitano, diventa comandante di una nave per conto suo, ma sempre e comunque assieme a questo suo compare di malefatte. Almeno fino a quando Moody non decide di lasciare l'amico e dirigersi verso le coste della ricca Africa, con intenti non proprio bellissimi. Ecco, quello che ci interessa, però, è che Richard Fraud e la sua ciurma sono di quelle in cui, in modo storicamente accertato, bianchi e neri convivevano e lavoravano insieme. Come ben sappiamo, i neri di queste ciurme erano schiavi africani liberati proprio dai pirati. A bordo della Rising Sun, poi, oltre a Fraud, c'era anche un altro importante compagno di Moody, ovvero Thomas Coughlin, un pirata molto in gamba e anche piuttosto feroce in battaglia, che però, per il suo capitano, rappresentò un'arma un po' a doppio taglio. Coughlin si era unito a Moody subito dopo aver accettato l'armistizio di Woods Rogers nel 1718, però tornò, come molti altri, immediatamente proprio a fare il pirata. lui seguì Moody nel suo viaggio verso l'Africa, al contrario di Fraud, e proprio a largo delle coste di Capoverde tentò un ammutinamento, perché voleva far lui il capo, cioè c'era questa cosa. Chi ci segue da un po' conosce un po' questa storia già, perché Moody sconfisse Coughlin, decise di abbandonarlo al suo destino su un'isola disabitata, ma il resto della ciurma non approvò la decisione e abbandonò invece Moody alla deriva su una barchetta. Nella ciurma, in quel periodo, c'era Olivier Lavassé, lui fu eletto capitano e la prima cosa che fece è andare a recuperare Thomas Coughlin, che era un po' il motivo di tutta questa bagara. Il buon Thomas, buono se fa perdire, ovviamente, però nel frattempo si era già salvato da solo. Infatti, aveva preso il controllo di una nave di passaggio che si era fermata lì per approvvigionamenti ed era pronto quindi a prenderne il comando. E a quanto pare gli uomini che andarono con lui erano piuttosto felici dei metodi brutali che Coughlin dimostrava spesso e volentieri. Coughlin divenne così un importante alleato proprio di Olivier Lavassé almeno fino a quando questi due non toccarono la Sierra Leone perché qui incontrarono un altro personaggio che rientra nel nostro roster di alleati anche mentori pirata una persona che in fondo incarna bene entrambe queste definizioni che è Howell Davis. Davis adesso andremo poi ad approfondire meglio la sua storia però iniziamo col dire che lui si unì a Coughlin e a Levassé per un certo periodo soltanto fino a quando la loro alleanza non terminò in maniera piuttosto naturale. Per concludere però la storia di Coughlin possiamo dire che dopo questa avventura con Davis e Levassé lui si unì per un certo periodo al pirata Taylor altro personaggio di cui ovviamente approfondiremo durante questa carrellata di bracci destri famigerati però sembra che la carriera di Coughlin stesso terminò bruscamente nel 1720 a causa della morte probabilmente a causa di una malattia capita quando vai in giro nel 1700 abbiamo visto bene e di fatti sembra che Coughlin morì di malattia di uno dei tanti malanni che capitano capitavano ai marinai insomma o forse in duello però la malattia è più probabile era periodo di epidemie in quel del Magadascar ecco oppure ci sono alcune testimonianze secondo cui Coughlin sia morto sulla forca da qualche parte pagando pegno per le sue malefatte però fonti non molto corroborate quindi insomma lasciamolo morire in Magadascar non troppo contento però insomma neanche sulla forca quindi non gli è andata poi così male tu invece che ci racconti dunque innanzitutto mi collego alla panoramica che ci hai fatto per spiegare ai nostri ascoltatori alle nostre ascoltatrici che sì oggi vogliamo parlarvi anche di bracci destri famosi ma non soltanto perché in realtà vi ricorderete noi abbiamo già un po' trattato il tema del braccio destro che può essere il quartier mastro che può essere il nostro ombo nel tema e nella puntata sulle ciurme famigerate che potete recuperarvi ma in realtà quello che realmente ci tenevamo a fare oggi era anche parlare realmente di amici complici soci flotte che venivano create fra pendagli da forca con tutte poi le dinamiche che si vanno a creare fra due soci che sono dei pirati quindi potete immaginarvi il concetto di lealtà un po' altalenante in base un po' dove va il profitto dove va la convenienza dove vanno i perdoni reali ci tenevamo proprio ad approfondire questo tema perché realmente la sola golden age caraibica quindi una fetta se vogliamo di una storia che se volessimo parte addirittura dai bucanieri poi c'è la pirate round quindi una sola parte della storia dei pirati dei caraibi ha una costellazione di nomi che non si esaurisce nei nomi dei grandi capitani che noi stessi abbiamo trattato o che le serie tv se vogliamo rappresentano prendiamo black sales ecco prendiamo black sales così mi collego al personaggio di cui sto per andare a parlare black sales ha trattato l'interessante tema del rapporto di un trio di pirati molto noti che sono charles vane che sono calico jack e hen bonnie quindi anche noi sia nelle nostre puntate che nel nostro libro quando anche abbiamo dovuto parlare di come charles vane ha perso poi la sua nave proprio a causa di calico jack abbiamo parlato di questi temi e abbiamo parlato di hen bonnie nella puntata sulle donne pirata tra l'altro apro una parentesi io e flavio ci stiamo rendendo conto che occorre continuare a parlare della figura di donne nella pirateria non stiamo parlando abbastanza parliamo sempre di questi bruti individui di sesso maschile ma faremo anche puntate sulle altre donne della pirateria vere o di finzione questa è una cosa che sicuramente ci siamo appuntati ma proprio in questo circolo di amicizie nefaste verrebbero a dire quindi hen bonnie chas vain calico jack si inserisce un pirata che è noto ma non abbastanza da essere passato alla ribalta e sicuramente non abbastanza ad esempio da finire in black sales e si tratta di pierre boschè su pierre boschè abbiamo delle fonti come diceva prima flavio a volte parli di pirateria hai delle fonti non corroborate mi piace questo termine che rubo anche su pierre boschè abbiamo delle fonti che fanno discutere innanzitutto la prima fonte che dovete mettere in discussione è quella di chi vi sta parlando perché il fatto che si pronunci boschè lo sto azzardando io è scritto boschè con la k però boschè mi sa di nome francese cognome francese come boschè come fosse scritto sq quindi pierre boschè poi se si chiamava pierre boschè non lo so ma voi non immaginiamo si chiamasse pierre boschè la cosa che ora vi andrò a raccontare vedrete che vi dà un po' fastidio con una lettura intellettualmente onesta di questo personaggio perché questo personaggio è passato alla storia come un pirata noto per essere un pirata omosessuale e ora andrete a vedere in che modo una storiografia ammantata di aneddoti stereotipi eccetera va a rappresentare questo pierre boschè in maniera veramente stereotipata riducendolo però a una macchietta e ora cercheremo in questa puntata in realtà di rimettere un po' a fuoco questo personaggio allora pierre boschè è noto per essere stato un grande alleato di anne bonnie anne bonnie già figura a metà fra la verità storica e la leggenda no perché alcuni dicono anne bonnie grande donna della pirateria però c'era anche mary reed all'epoca qualcuno dice no erano la stessa persona anne bonnie e mary reed però passate alla storia con due nomi diversi insomma la storia e la leggenda si vanno a mescolare e c'è questa figura di questo individuo chiamato pierre il quale era un grande amico di anne bonnie il quale sicuramente la supportò nel suo inizio nel suo esordio nel mondo della pirateria questo pierre però non parte dal lupo di mare parte come uomo d'affari è un uomo che gestiva delle attività nei caraibi e gestiva in particolar modo un coffee shop che non so se è alla olandese caro Flavio dove si consumava oppure alla italiana che andavi lì a bere un espresso macchiato caldo può essere tutto con sti pirati diciamo io sospetto che si riferisca a un mercato di caffè visto l'ubicazione esattamente però pare che pierre attenzione fosse anche un sarto ok e un hair stylist che faceva acconciature per signora attenzione è passato alla storia come the pency pirate che sta viene tradotto in italiano come il pirata mammola trovate delle fonti che dicono questa cosa però sicuramente un termine dispregiativo che forse ha delle accezioni anche più forti di pirata mammola per indicare un pirata effemminato molto effemminato ecco il tutto dal mestiere che fa dall'etichetta che gli abbiamo messo addosso cioè non noi ma che noi stiamo riportando sul fatto che l'abbiamo trovata sembra andare molto verso lo stereotipo e ora capirete appunto cosa accade con questo pierre passato alla storia ci viene detto che pierre ha organizzato assieme ad Anne Bonny la prima azione di pirateria di Anne Bonny che è molto interessante perché pare che sia avvenuta prendendo un'imbarcazione molto probabilmente rubandola e andando a caccia di altre navi riuscendo a mettere le mani su una nave francese che venne attaccata utilizzando una tecnica di guerriglia psicologica cioè coloro che stavano sulla nave che venne attaccata dalla nave di Anne Bonny e di pierre videro davanti agli occhi una sorta di nave fantasma animata solo da zombie che si muovevano lì sul ponte in realtà cosa accadeva pare che Anne Bonny avesse preparato dei manichini inzaccherati sporchi di sangue per trasmettere un'idea appunto di una nave abitata da cadaveri può essere leggenda di sicuro le tecniche di guerriglia psicologica nelle sortite per il mare c'erano vi abbiamo raccontato lo riporta anche il documentario Netflix di quella volta in cui Bella mi attaccò una nave con i suoi completamente nudi per incutere terrore insomma qui o attaccavano nudi o coi manichini i poveri commercianti erano lì a dire non si vive già ci attaccate pure un'attachicardia un'ansia continua era a girare sicuramente in quelle acque e quindi diciamo c'è questa leggenda nei rapporti fra Enboni e questo amico complice che viene resa ancora più spettacolare se pensiamo all'aneddoto secondo il quale proprio Pierre poiché era sarto avrebbe cucito i pantaloni di velluto nero che Enboni indossava durante le battaglie e uno dice vabbè che particolarità i pantaloni no pare anche qui pare si dice pare sembra che Enboni indossasse nelle battaglie solo i pantaloni e che quindi guidasse appunto i combattimenti a seno nudo e indossando questi pantaloni preparateli da Pierre ho trovato addirittura una fonte Flavio qua si va secondo me veramente nel volo pindarico poi magari è vero a me piacerebbe fosse vero secondo cui Enboni proprio per come andava all'arrembaggio a seno nudo avrebbe ispirato il famoso quadro la libertà guida il popolo la rivoluzione francese non lo so magari è vero magari è vero magari c'è un'ucronia addirittura uno potrebbe scrivere un'ucronia un romanzo dove Enboni sopravvive e va a guidare la rivoluzione francese tutto può essere ma a noi non interessa tanto adesso concentrarci invece si posso posso interromperti in secondo visto che siamo in tema di demistificazioni con Pierre Bosquet perché immagino che ora è lì che tu stai andando allora qual è il discorso è che in realtà sta storia che Enboni o addirittura anche Mary Reed andassero all'arrembaggio all'attacco a seno nudo eccetera è proprio una stupidaggine nel senso che per tutta la loro carriera solamente le persone estremamente vicine a loro sapevano che loro erano donne esatto la cosa del seno nudo è che pare che appunto scoprissero il seno quando stanno per ammazzare qualcuno quindi non poteva andarlo a raccontare in giro era più un discorso di orgoglio per dire guarda che sei stato ammazzato da una donna però è tutto qui infatti tutte queste rappresentazioni di Enboni Mary Reed palesemente femminili sui ponti delle navi addirittura in battaglia è proprio una cosa che ha subito un po' di romanticismo di epoche successive ecco perché all'epoca una donna a bordo di una nave dei pirati diciamo che la cosa migliore che gli poteva succedere è che la facevano scendere a terra il prima possibile insomma ma perché tu pensi da storico e non da hollywoodiano tu penso un film hollywoodiano immagino che sia quello il discorso film hollywoodiano neanche in realtà non penso neanche per quanto se ne dica non penso neanche con la lente di ingrandimento dell'ideologia nel guardare alla storia quello che è stato è stato un Enboni in un film di hollywood che ormai ha 90 anni che guida lei la rivoluzione francese e dicono ma come la finanzieremo col tesoro non lo so di drake c'è un casino come fanno a hollywood come film è bellissimo lo vedrei subito però io voglio demistificare soprattutto quello che si dice su Pierre Bosquet innanzitutto quello che a noi fa diciamo un po' accaponare la pelle no è questa attenzione sessuale che gli aneddoti non la chiamerei nemmeno la storiografia più che altro le fonti che parlano di pirati questa attenzione morbosa verso l'orientamento di questo particolare personaggio come se fosse il pirata gay dei caraibi quando in realtà sappiamo che l'orientamento sessuale romantico le preferenze in generale di molti dei personaggi dei quali abbiamo parlato è a noi sconosciuto e possiamo immaginare comunque che fosse molto più fluido della società contemporanea quindi non è che c'era c'erano i pirati etero e Pierre Bosquet che era il parrucchiere gay proprio se no sembra veramente un film dei vanzina questo non sembra più la storia dei caraibi lo stesso termine pensi addirittura facendo una ricerca ho trovato che è molto probabilmente non il soprannome di Pierre Bosquet dato dai suoi contemporanei come poteva essere Bellamy che si autodefiniva il Robin Hood della sua epoca nella sua contemporaneità probabilmente è stato dato dopo è stato dato dopo anche perché pensi è un termine dispregiativo che etichetta gli omosessuali del novecento molto probabilmente e quindi non era all'epoca conosciuto come The Pancy Pirate è addirittura invilico il fatto che fosse Pirate perché fosse forse era amico di M. Bonny ma non è detto nemmeno che avesse preso parte a delle pugne sul mare diciamo cos'è che rendeva per appunto questo tipo di fonti così particolare questo personaggio da meritare questo tipo di etichette il fatto di avere una sartoria lui comunque diciamo i sarti all'epoca ripeto non è che dobbiamo immaginare lo stereotipo da fin dei Vanzina poveri Vanzina però insomma citiamo una cinematografia che si è divertita molto su certi stereotipi però essere un sarto all'epoca voleva dire essere un sarto a bordo voleva dire anche occuparsi delle vele non è che appunto era il sarto assolutamente esatto e anche non immaginatevi nemmeno gli air stylist che possiamo avere oggi quando parliamo di parrucchieri al massimo il cerusico il barbiere chirurgo possiamo immaginare all'epoca cioè erano ruoli professionali una cosa e seconda cosa quello che faceva le parrucche proprio visto l'epoca le parrucche esatto esatto e quindi questo ci fa capire come una persona che all'epoca era predisposta a fare determinate professioni perché Pierre Bosquet era conosciuto per un determinato ruolo professionale ha meritato nel corso della storia delle etichette che ad oggi a noi suonano strane quindi quando vedete su internet Pierre Bosquet il pirata omosessuale amico di Mboni toglietevi da questo alone appunto di film comico di lei e dell'amico gay e cerchiamo appunto di contestualizzare soprattutto ripeto perché non conosciamo in realtà l'orientamento di praticamente nessuno dei personaggi di cui andiamo a parlare però Pierre Bosquet personaggio molto interessante sicuramente appunto ci fa capire che i Caraibi erano animati anche da persone che svolgevano varie professioni all'interno delle città dei Caraibi se posso fare un ultimo inciso rispetto a questa storia è anche il fatto che effettivamente la sessualità dei pirati se vogliamo ideologizzarla un po' era piuttosto liquida già di per sé quindi pure anche fosse questo personaggio che si aggirava per le Bahamas spiccatamente omosessuale non sarebbe di certo passato alla storia per questo perché nessuno l'avrebbe notato non sarebbe stato un tratto caratteristico di questa persona in quella comunità almeno in altre comunità in Europa nelle colonie sì ma non in quella comunità lì e in questo Black Sails fa una rappresentazione molto bella molto trasparente appunto dando ai personaggi senza temere di dare ai personaggi orientamenti romantici sessuali che potevano essere di qualsiasi tipo in questo Black Sails fa una esatta rappresentazione sicuramente di quel consorzio umano più esatta di certi racconti moderni e così invece sulla nave dei manichini è pure quella dice una stupidaggine manichini insanguinati quello in realtà non lo posso dire se è una stupidaggine o no è una storia che è stata tramandata non è supportata da fatti da testimonianze attendibili però con la storiografia dei pirati bisogna sempre prendere tutto con le molle e cercare di capire cosa è vero cosa non è vero cosa è plausibile cosa no di sicuro i pirati erano maestri nella guerra psicologica non mi stupirebbe sapere che si erano inventati qualche stratagemma del genere insomma e quindi comunque dai torniamo un po' lasciamo un po' i caraibi e torniamo adesso proprio lungo le coste dell'Africa perché prima nel mio racconto iniziale ho citato due pezzi grossi proprio nel settore alleati di pirati famosi e quindi il primo che ho citato e che approfondisco un po' è Howell Davis l'abbiamo già incontrato se ricorderai sicuramente in più occasioni e vale la pena appunto spendere qualche parola su di lui visto che fu un nome di primo piano in realtà nella storia della pirateria della Golden Age ma con un po' la sfiga di lavorare con persone totalmente famose che quindi hanno proprio oscurato anche un po' la sua storia ecco lui soprattutto si aggirava attorno alle coste africane e di certo non per la sua passione per le grandi cause collettive di cui hai parlato all'inizio visto che lui era principalmente un trafficante di schiavi ecco nato in Galles Davis iniziò la sua carriera da pirata nel 1718 proprio dopo un breve passaggio a Nassau dove lui cercò di stabilirsi ma proprio lui arrivò lì proprio quando arrivò pure Vus Roches quindi si rese conto del fatto che il futuro dei pirati era altrove ecco se ne andò quindi insieme a Walter Kennedy e a Thomas Hanstis un altro personaggio di cui approfondiremo un po' in questa sede mentre Walter Kennedy ne abbiamo già parlato nel primo episodio dedicato dai pendagli da forca ecco quindi non approfondisco oltre comunque Davis insieme a loro rubò una nave e se ne andò verso Capoverde proprio in Africa ed è qui che incontrò come detto Cochlin leva a sé unendosi a loro in questo consorzio criminale comunque l'attività di Davis preferita come ho accennato è quella del contrabandare schiavi lui li rubava i mercanti che svolgevano l'onesto mestiere di schiavista e so che abbiamo detto tante volte ironizzato in molte occasioni sul fatto che questo fosse un mestiere tutto sommato rispettabile però ogni volta che ne parlo mi vengono emozioni poco piacevoli insomma quindi ogni volta mi viene un po' da sottolineare la cosa comunque dopo proprio dopo la cattura di una nave appartenente a questi onesti mercanti Davis incontra un altro gallese Bartolome Roberts di cui diventa sia mentore che grande amico i due infatti parlando in gallese avevano un linguaggio privato con cui passarsi informazioni e tenere la ciurma in pugno sostanzialmente bisogna poi dire che Davis non era un pirata molto battagliero era più del tipo scaltro tipo calico jack hai presente molti infatti lo descrivono come un uomo dotato di grande intelligenza e anche parecchio fascino e certamente non incline a inutili spargimenti di sangue pensa che un giorno lui si avvicinò come niente fosse al forte della Royal African Company in Gambia pensa che comunque la stessa compagnia che lui aveva derubato probabilmente dall'inizio della carriera e andò spacciandosi per un regolare corsaro intenzionato a supportare la compagnia proprio contro i pirati invitò quindi a cena il comandante del forte schiavista che ben contento accettò l'invito e quindi lo rapì per poi guadagnare un bel bottino in oro con il riscatto ecco questo era il tipo di pirata alla Davis è un bel furbacchione bisogna però dire che queste tattiche non funzionano per sempre comunque non funzionano sempre infatti lui provò a tirare uno scherzo simile proprio del tutto simile al governatore portoghese dell'isola di Principe e stavolta non finì bene perché il governatore riuscì a capire un po' l'imbroglio e gli tirò un contro scherzone ovvero un'imboscata che che portò alla morte di Davis nel giugno del 1719 Roberts come sappiamo a questo punto viene eletto capitano per impiazzare il suo amico morto e come prima azione decide proprio di vendicare il suo mentore e amico attacca l'isola di Principe con la piena potenza delle sue nuove forze razziando e uccidendo il più possibile e quindi possiamo dire che se Davis è passato alla storia per essere un pirata più scaltro che battagliero e per niente crudele di certo Roberts non ha ereditato questi tratti dal suo mentore di intelligenza ne aveva sicuramente da vendere però era senza dubbio un personaggio molto più incline alla battaglia che ai travestimenti sì poi poi a bordo della ciurma di Roberts c'erano tanti personaggi di secondo piano che però erano importanti al loro modo nella storia con primari ma persone di fiducia del grande pirata Black Bart alcuni di loro li abbiamo già trattati c'era Christopher Moody leale fino alla fine c'era Walter Kennedy leale manco per niente e poi bisogna spendere qualche parola su Thomas Anstis vecchio compagno di scorribbande fin dagli inizi proprio di Howard Davis e poi membro di spicco della ciurma di Roberts anche se Anstis non apprezzava troppo il cambio di comando infatti nell'aprile del 1721 un po' come aveva fatto Jack Kennedy prima decide di mollare Roberts nottetempo e svignarsela con una piccola ciurma e una nave la Good Fortune ora la piccola compagnia di Anstis ebbe una storia un po' particolare non so se la conosci loro ebbero un piccolo successo iniziale e poi l'equipaggio iniziò a dividersi a causa di conflitti interni proprio alla compagnia una parte degli uomini inviò addirittura un appello al re Giorgio I per ottenere un perdono e quindi l'amnistia che era uno dei metodi con cui i pirati andavano in pensione in tutta risposta però la corona inglese spedì invece una flotta di cacciatori di pirati alle calcagne di Anstis e i suoi quindi insomma non sembravano molto accogliere questa richiesta di perdono direi dopo una serie di manovre totalmente disperate non c'è altro modo per descriverle Anstis riuscì a scappare mise in salvo buona parte dell'equipaggio e poi continuò a pirateggiare per i mari almeno fino a quando questa piccola flotta pirata non venne sorpresa dagli inglesi a Tobago nell'aprile del 1723 durante alcune operazioni di pulizia della nave e sappiamo spesso che questo è come arrivano catturati i pirati insomma quando si fermavano a carenare venivano sorpresi ecco l'unica imbarcazione a salvarsi a questo sfacelo fu proprio la good fortune che diede un po' seguito al suo nome visto che diceva sempre a scamparla con a bordo Anstis però a questo punto l'equipaggio non ne poteva proprio più di lui perché magari la nave portava fortuna ma lui no quindi invece di indire nuove elezioni decisero proprio di ucciderlo nel sonno e consegnarsi alle autorità olandesi che concessero sorprendentemente loro l'amnistia proprio in cambio della testa di Anstis e dei suoi uomini più fidati ecco esatto Anstis è molto interessante perché le cronache anche qua abbiamo una storiografia come per molti pirati che ci dice molto sulla fine poco sull'inizio e solitamente quando questo avviene la fine è tragicissima quindi o con un cappio o è naufragato questo morto nel sonno quindi una delle morti più tristi assieme a forse a William Kidd una delle storie più particolari Anstis pensate come diceva Flavio prima era socio dei due pendagli da forca mica da ridere che erano Walter Kennedy e Howell Davis appunto su Kennedy tra l'altro mi permetto di dire perché ve lo stiamo un po' raccontando come veramente una vecchia volpe della pirateria abbiamo su di lui un interessante paragrafo nel nostro libro perché da lui veramente potete imparare come reinventarvi come essere molto furbi nel mondo per essere veramente pirati in gamba perché questo era veramente un pirata non mi vengono in mente modi per definirlo che non siano parolaccio diciamo era molto astuto era molto astuto loro sono praticamente saliti hanno avuto la loro ascesa dopo aver fatto un ammutinamento come spesso accade erano su una nave chiamata la Buck inizialmente il capitano era Howell Davis dopo questo ammutinamento poi appunto divenne Black Bart e Anstis guadagnò la fiducia di Black Bart diventando uno dei comandanti poi della sua flotta come ci diceva Flavio al comando della Good Fortune diciamo che una cosa che noterete ora parleremo un po' o in questa puntata o nella prossima ormai mi verrebbe da dire di soci di Black Bart Black Bart questo è importante dirlo perché stiamo parlando appunto di amici pirati e i pirati penso siano i primi amici che ti voltano le spalle al primo momento utile se c'è una una categoria di persone che dici non me la scelgo come amico sono i pirati Black Bart di sicuro era un uomo ferreo addirittura si attribuisce a lui o meglio è lui l'autore di uno dei codici pirateschi fra i più importanti della storia ma era di manica larga quando si trattava di gestire i propri amici infatti lui aveva una flotta ma scoprirete da questa e da altre storie che nei momenti veramente veramente perigliosi dove gli serviva tutta la flotta unita i suoi soci comandanti di altre navi di solito se ne andavano da altre parti quando Roberts decise di partire per l'Africa Amstis disse io rimango nei Caraibi con la Good Fortune non t'offendere Bart e già uno dice ma come ma dobbiamo andare insieme tra l'altro come diceva Flavio poi Amstis un po' il karma lo ha punito perché è stato poi tormentato dalla legge al punto tale che il suo equipaggio si la scampava sempre però ha detto basta vivere da fuggitivi e lo hanno ammazzato molto è partito dalla cattura della Morning Star che era appunto questa nave porta valori diciamo volgarmente una nave della flotta del tesoro che era diretta dalla Guinea alla Carolina lui l'aveva catturata e l'aveva data a un suo uomo di fiducia John Fenn che era lo ship gunner di bordo ruolo che io ho trovato proprio riportato così dalle fonti ho cercato di capire cosa fosse lo ship gunner l'artigliere esatto no ma era anche ho visto colui che si doveva badare alle armi a bordo ma anche talvolta istruire le persone all'uso delle armi a bordo quindi possiamo immaginare delle persone totalmente cotte dal whisky che facevano delle esercitazioni con i fucili la mattina presto non oso immaginare lo ship gunner quindi Thomas Amstis crea a sua volta la sua flotta dopo aver fatto parte della flotta di Black Bart però si trova poi alle calcagne all'ammiraglio John Flowers che voleva fargli il mazzo e poi il mazzo gliel'hanno fatto i suoi e gli ammutinati come diceva Flavio che gli hanno fatto il mazzo sono stati poi graziati dalle autorità olandesi a Curaçao dove poi si sono sicuramente abbandonati a bevute dell'omonimo liquore però Flavio prima di parlare di altri compari di Black Bart perché Black Bart aveva appunto questa flotta di assenteisti che nel momento buono se ne andavano direi che possiamo lasciare un po' di suspense magari e continuare la prossima puntata con La Palis altro socio di Black Bart che non era propriamente affidabile cosa ne dici? no però prima di prima di chiudere prego prego ti racconto un ultimo piccolo aneddoto sui soci sui soci di Black Bart proprio per lasciare un po' di cuolina in bocca un po' la cuolina in bocca perché parlo di un personaggio ecco un braccio destro storico che è passato alla storia per una sua per un suo vezzo particolare ecco parlo di Thomas Sutton ecco lui vi si è parlato di Gunner lui era il Gunner ovvero l'artificiere proprio della ciurma sia di Howard Davis e poi di quella di Roberts e un po' come quel Christopher Moody lui era invece non era uno degli assenteisti ma era uno di quelli che era proprio stato leale a Black Bart fino proprio fino alla fine fine combattendo al suo fianco durante tutta la tutta la sua carriera fino anche alla battaglia finale con la HMS suolo di Chowner Ogle dove Black Bart rimase ucciso come sappiamo e tutto questo dicevo Sutton passò alla storia per una arte una sottile arte piratesca che non era quella della manutenzione dei cannoni era quella della bestemmia spiego meglio un attimo dopo essere stato imprigionato assieme agli altri pirati appunto dopo la sconfitta contro la marina della flotta di Black Bart pare che Sutton sia stato messo in catene accanto a un collega che passava quel triste periodo recitando versetti della Bibbia e pregando per conto suo giusto che è un po' quello che farebbe qualunque timorato di Dio in quella situazione però Sutton che non era timorato di Dio per niente disse a questo suo collega senti cosa speri di ottenere con tutti questi piagnistei e lui rispose il cielo spero consapevole che ad attenderlo c'era appunto la forca proprio dietro l'angolo e a quel punto a quel punto Sutton gli disse il cielo tu sei pazzo hai mai sentito storie di pirati finiti in paradiso molto meglio l'inferno è più divertente e appena ci andrò sparerò una bordata in saluto al vecchio Roberts insomma oltre a essere un perfetto acquisto per qualsiasi band metal io penso Sutton era talmente leale a Roberts che non vedeva l'ora di ricongiungersi al suo capitano pure all'inferno ecco e allora se prima abbiamo detto aneddoti sui pirati saranno veri saranno finti io a questo voglio crederci e con questo aneddoto che ci auguriamo col cuore sia vero ci lasciamo per sentirci la prossima puntata grazie a tutti Grazie a tutti.